c'è Don Antonio Mazzi prima di chiudere la seconda ora di No Stop News come stai Don? Ciao 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 oggi è il giovedì santo e forse se viene giù il signore invece che lavarti i piedi forse sarebbe farebbe meglio lavarci il cuore una bella pulizia il cuore cosa dici? Beh di tutti noi nessuno escluso. Dai piedi al cuore in questo giovedì santo ok? Per tutti questo per tutti anche per me anche per voi Ciao Don Ciao 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 buongiorno. Niente male eh questo invito a a pulire il cuore